Benvenuti a Pixel, accendere e spegnere gli elettrodomestici a distanza ora si può grazie ad uno smartphone che tiene tutto sotto controllo, soprattutto il vostro consumo energetico. Questo è il nuovo sistema studiato dalla NEC per farvi risparmiare sulla bolletta della luce, una spina intelligente da applicare alla presa elettrica e un gateway, ovvero una sorta di modem, così le spine... ...fornire informazioni sul consumo istantaneo dell'apparecchiatura elettrica connessa a quella presa. Potrò anche andare a comandare l'accendimento e lo spegnimento dell'apparecchio stesso. Questo controllo dei consumi cambierà anche il vostro rapporto con il fornitore di energia elettrica che potrà offrirvi forti sconti sulla bolletta. E addirittura consente all'azienda elettrica, sempre che l'utente finale sia d'accordo, di andare a spegnere particolari elettrodomestici che l'utente avrà messo a disposizione in certe fasce della giornata.